Mi devo incazzare, oggi questo è il video per incazzarsi alla grande... Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo su un nuovo vlog, scusate se all'inizio non ho guardato in camera però ero preso da guardare la mia immagine sulla sinistra che c'è il mio cazzo di schermo Comunque, perché siamo qua a fare questo bellissimo video? Perché oggi è una giornata in cui mi devo incazzare, per forza Allora, sono tornato, sono stato fuori due giorni, due giorni Quindi ho fatto tipo 18-19 fuori perché avevo impegni Cioè volevo farmi due giorni di mare, poi c'era dietro, vabbè Cazzi miei, il lei massima, cazzi miei, fantastico, meraviglioso Che succede? Me ne torno il 20 che sarebbe questa mattina, sto registrando il video proprio a buco Sabato 20 mattina, prendo la macchinina, mi faccio un'ora e un quarto di macchina, arrivo a casa Circa verso le 10, ok? Va bene Mangio un boccone, accendo i vari programmi registrazione, mi metto sulla mia bella seggiolina Guardo tutti i bei commenti che mi avete fatto sotto lo scorso video 1400 commenti, eh, tanta roba Registro e registro Minecraftita, per forza, per far uscire le due Finisco di registrare Minecraftita, lo metto lì, lo monto Mi è venuto un po' più lungo del solito Ok, va bene, circa 15 minuti Va bene, perfetto, mi metto lì 15 minuti di video Montato e tutto il resto Pesava in culo Pesava in culo, porca miseria Lo metto a caricare De mordo a un certo punto perché mi accorgo che questo per le due non nasce mai Va bene Ci riproviamo, facciamo un'altra cosa Vado su un server Mi faccio un minigame Lo registro, lo edito, lo monto di corsa così Lo renderizzo, lo butto dentro Tempo infinito ancora per caricarsi E lì mi sono incazzato a best Ho detto, cazzo, è l'una e 17 Sono tre ore e un quarto che sto qua davanti al computer Ho fatto due video e nessuno può essere messo in tempo per le due Il che mi ha fatto davvero incazzare Ho fatto prendere questa telecamera Ho detto, ok, va bene Faccio un video così Abbastanza easy È un video Lì a massima Fogo Mi incazzo Oggi è un video così Va bene Passate due minuti e cinque Già mi sono incazzato come un drago E adesso facciamo due chiacchiere Così, giusto per parlare di tutto quello Che ne so Vi racconto qualcosa Una storia Una storiella Così No, figa perché Io non sa Vi giuro Senza video non vi ci volevo lasciare E volevo darvi una spiegazione La prima volta che faccio una roba del genere In assoluto Spero di non doverla fare più In tutti i casi Oggi alle 18 Uscirò a Minecraft I del Mini Che me lo metto domani alle 18 È un video in più che mi son fatto E vabbè Fanculo tutto Va bene Parliamo un po' di progetti futuri Progetti futuri Il primo da fare È buttarvi a sta cazzo di connessione Prendermi una connessione nuova Perché ho Veramente Stavo pensando davvero di far Iniziare a fare live Quindi io provvederò Nei giorni seguenti Ad organizzarmi Tra cube e roba varia Ma voglio fare live su YouTube Perché secondo me È figa un sacco l'idea Tipo ci mettiamo qua Due orette Facciamo una live Anche tre ore Che ne so Andiamo tutti su un server a giocare Oppure Prendo una mappa survival E me la butto giù In tre ore La facciamo tutta insieme In una live Cioè secondo me È una roba figa questa da fare Da provare Da provare e riprovare Probabilmente Ci Lo farò Se la connessione regge Ovviamente perché fa schifo Vi giuro Allora se fai il contratto No perché io abito in un posto del cazzo Ho detto forse troppe volte Troppi termini scurili Scusate la vulgarità Magari della situazione Però capite In tutti i casi Tento di contenermi Giuro Prometto Abito ad orvieto Ve l'ho detto 6400 volte Il problema qual è Che fai la 20 mega Ne prende Tipo Meno della metà E va bene In download Non mi interessa In upload Non faccio neanche un mega Ok va bene Mi organizzo Prendo Il Un cube Di una compagnia Senza far Tanti nomi Non voglio far pubblicità E Lo metto lì Ok questo è a bestia Faccio gli speed test E la madonna Che figata Fluttua Fluttua Perché porca miseria Delle volte va davvero benissimo Prendo un e mezzo Un mega e mezzo In upload Che dici Cioè qualcuno di voi Pensate Guarda questo Si gasa tanto per un mega e mezzo Si vabbè ma io un mega e mezzo Tanto per me Capite il fatto Che è Tanto per Come sono ridotta Che livelli sono E delle volte che mi fa schifo Mi prende che ne so Zero Non so 300k 400k E ti metti lì E ti sveni Perché ci metti Tre ore A caricare un video E lì dici Porca miseria Come faccio Infatti non fai Infatti sono qui a far video Vlog Improvvisatissimi Su questa roba Che poi neanche editing Non ci posso mettere Perché sono le 1.20 E quindi deve essere Tutto di getto Tutto così Flambe Non lo so Che possiamo fare Tipo così Perché poi c'è anche la telecamera Attaccata al computer Quindi tante cose Non le posso fare Se no magari vi portavo in giro Facevamo qualcosa del genere Così Vabbè Ditemi un po' Parliamo un po' di voi Che avete fatto a Ferragosto Nel senso Io mi sono fatto le mie belle serate E tanta roba Pensate un po' Poi il 15 sera Me ne sono trovato a casa Con un po' di amici Perché avevamo fatto Serata il 13 Il 14 Il 15 sera detto Va torniamo a casa Facciamo un impegno poi Qui a Orvieto Ce ne torniamo a Orvieto Facciamo Blitz qua Ci riprendiamo qualcosa Facciamo una doccia Cambiamo E poi ripartiamo Altra serata Ci siamo trovati Tipo alle 10 Che non c'avamo niente voglia Di andarcene a fare serata Si è detto Vabbè Spaghettata E via Il 15 A casa Andiamo così Va bene Fantastico Comunque La cosa che volevo dirvi Un'altra cosa Che mi ha fatto davvero strapiacere Poi la chiudo qua Perché vi mando a mangiare Se riesco Non è escluso Mi scrivono Ok Perfetto Comunque Quello che volevo dirvi io È che Probabilmente No No Probabilmente niente È un'altra cosa Poi mi distrago Mi arrivo nei messaggi Anche questo È tutto contro di me oggi Va bene Quello che volevo dirvi io È che Sono stato appunto In un posto di mare E il bello è che Alcuni ragazzi Cioè Mi hanno riconosciuto Mi ferma Qualcuno ha fermato in strada Io tipo La persona più felice del mondo Era il settimo cielo E vi giuro Se mi incontrate Fermate A me fa strapiacere Magari facciamo una foto Vi giuro È fantastico Meraviglioso No Tantissima roba È fantastico Purtroppo Alcuni non avevano Il telefono dietro Magari Ho fatto due chiacchiere Così Però Vi giuro Non è la prima volta Che mi capita Qualche Mi è capitato Un sabato scorso Agli amici miei Tipo Ma davvero Sì davvero È bellissimo È quella soddisfazione Che dici Cazzo ma Allora davvero C'è gente che Si appassiona A quello che faccio A le cazzate Che faccio Che dico Su youtube Sono stracontento Vi giuro Queste sono cose Che fanno piacere Vabbè ragazzi Ve la chiudo qua Perché Sono le 6 e 30 Sì Sono 6 minuti e 35 Che chiacchiero Se non mi metto A editar il video Che poi non vi giuro Non lo edito questo Ve lo prendo E ve lo metto Diretto su youtube Così Ho una miniatura Non so che miniatura Faccio una bella foto Che schifo Facciamo il selfie Tipo per la miniatura Vediamo 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 Ok No fa schifo Ok la devo far dopo Va bene Detto questo Se riesco Ci provo Metto il video Minecraftita Alle 14 Alle No alle 14 No strego non sono Alle 16 Non penso di riuscirci Perché metto a caricare Questa Lì sono due ore No probabilmente alle 18 E non ce la faccio Ragazzoli E questo però Vi toccherà aspettare Alle 18 Però vabbè Mi farò perdonare Nei prossimi giorni Vi prometto Ragazzi Penso che per questo video Possa essere tutto Tutto e oltre Io vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi piacciono Mi piacciono Mi piacciono Mi piacciono Iscrivete Il canale Se ho già fatto E condividere il video Su facebook Mi raccomando Passate in tutti i link In descrizione Facebook Instagram E Telegram Mi raccomando Seguitemi Che sul gruppo Telegram Perché ho già dato un annuncio Lì sul gruppo Telegram Avevo detto Guardate oggi Will Battle Invece Neanche E vabbè E così Bene Noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi